L'analisi termigrometrica delle strutture e degli ambienti ci permette di ottenere molte informazioni sia sull'andamento delle temperature delle strutture nell'arco del giorno e della notte sia sui dati climatici dell'ambiente. Il termoflussimetro è uno strumento che misura il flusso termico che passa attraverso una struttura nell'arco di un periodo di almeno 72 ore. L'interpretazione dei risultati permette di stabilire il grado di isolamento termico della struttura. Omega si occupa anche di rilievo, progettazione e realizzazione di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione.